buongiorno a tutti io mi chiamo valentina e ho frequentato il corso del case management nell'anno 2018 2019 e questo è il mio feedback rispetto all'andamento del corso e che è positivo perché mi ha permesso di poter ampliare il mio bagaglio di competenze di conoscere a fondo quello che è il ruolo del case manager tanto discusso e tanto sentito nominare nel corso viene affrontato attraverso degli esempi pratici confronti con i colleghi in aula e con i docenti ovviamente che forniscono degli spunti di riflessione e quindi non tanto delle ricette prestabilite e su questo piano anche molto interessante la multidisciplinarità nel senso poter conoscere diverse persone che a loro volta esperiscono il ruolo del case manager nei vari settori professionali e questo trovo molto arricchente perché ti fa mettere dall'altra parte insomma e rende quindi completa l'esperienza formativa da questo punto di vista un'esperienza innovativa che va fatta e che ci voleva